16esima edizione di Dei Sposi, ci mettiamo in marcia per raccontarvi questo evento favoloso qui a Lilton Sorrento Palace, con me Aurora, che non guida, ma insomma se si fida guido io. Ci addentriamo dentro le sale dell'Hilton per raccontare questo mondo meraviglioso, il mondo fatato del matrimonio, il mondo fatato del giorno più bello della vita di una coppia, tante storie e noi ci mettiamo in marcia. Ebbene sì, siamo alla 16esima edizione, è un lavoro lungo che dura tanti mesi per pianificare, organizzare, scegliere tra professionisti che comunque sono consolidati nel tempo e naturalmente anche new entry, perché è giusto dare innovazione e novità, perché oggi il matrimonio è una festa, è un ricordo e si cerca sempre di dare qualcosa che sia caldo, armonioso e che gli ospiti si sentano veramente anche i protagonisti di questa festa. Lilton è una cornice meravigliosa perché i proprietari, Gian Mario Russo e il gruppo SEA, ci hanno accolto veramente con una classe, uno stile inconfondibile e veramente ne sono felice perché gli esplositori hanno gradito e anche i visitatori che stanno venendo da tutta la campagna. Molte persone mi vengono sempre a ritrovare perché amano questo fatto che è itinerante, ogni anno cambio e quindi la possibilità di far conoscere il territorio, che è veramente accoglienza, gastronomia, tradizione, innovazione quindi tutto un connubio per dare il massimo dei servizi. Questa è anche una vetrina che è molto richiesta da tante attività. Purtroppo io limito per dare un salotto e cercare di dare un servizio un po' diverso da queste grandi megafiere a cui io non voglio arrivare perché cerco sempre di dare un'accoglienza non troppo aggressiva. Per chi viene qua vuole capire, conoscere, essere sicuri di quello che alla fine è il servizio che viene offerto ed è una cosa molto importante. La cosa che mi rende felice sono le famiglie che vengono. Le coppie sì, tantissime, ma le famiglie anche perché offriamo dei servizi diversi dalla comunione, battesimo, undiciottesimo. Alla fine loro sono i primi a venire e per me è una felicità trovare ancora tante famiglie entusiaste perché oggi le coppie che vengono qui in fiera sono molto decise, mirate, sono essenziali. Oggi l'avvento di internet, però ripeto, cercano sempre il professionista che realizzi quello che sono i loro desideri. Oggi la professionalità è dimostrata nel tempo. Speriamo nel 2018. Guardiamo avanti e tanti tanti auguri a tutti. Siate felici. Viva la vita!